Agguato in Ortigia, un 23enne colpito con una pistola a piombini. Il riserva nel centro storico, dopo una lite scoppiata in via Trieste, nei pressi del Tempio di Pollo, un giovane sarebbe stato centrato dai pallini esplosi da un'arma, probabilmente una pistola giocattola o da una vera. Il 23enne, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. La procura di Seracusa, che coordina le indagini, ha aperto un'inchiesta. I militari dell'arma stanno interrogando alcune persone che potrebbero aver assistito alla scena per ricostruire la dinamica e identificare l'autore dell'aggressione.